Rimaniamo in tema di trasporti, estensione da 3 a 5 componenti per il Consiglio di Amministrazione della TUA, l'azienda regionale dei trasporti. Questa mattina a Pescara la presentazione del nuovo CDA. Omar Reda. Avrà 5 componenti il Consiglio di Amministrazione di TUA, la società unica di trasporto regionale. Ad affiancare il Presidente Tullio Tonelli, il Vice Presidente Guido Dezio e Federica Evangelista, saranno l'esperto di diritto comunitario originario di Lanciano Carmine Paolini e Irini Pervolarachi, manager proveniente dalla Daico con 35 anni di impegno nel settore dell'automotive. Durante la conferenza stampa di Pescara Tonelli ha sottolineato che l'estensione da 3 a 5 membri sarà a costo zero e ha ricordato le tre chiusure consecutive di bilancio inutile. Due invece gli obiettivi principali del nuovo CDA, secondo il numero 1 di TUA. Migliorare la qualità del servizio con l'acquisto di 206 autobus, di questi 35 ci arriveranno già a fine anno, altri 58 nei primi 4 mesi del 2019, tutto il resto verso la fine del 2019, l'inizio del 2020. Secondo elemento, cominciare a migliorare proprio i servizi. Io ho puntato su un progetto che è quello dell'allargamento di Unico da 12 comuni, il bacino Chiedi Pescara, l'ho portato a 31 comuni, cioè un arco partendo dal baricentro di Pescara di 26 chilometri, devendono servizi urbani, significa aver abbattuto il costo del trasporto del 65%. Sui prezzi del biglietto Tonelli interviene così. Il biglietto resta a 1,20 euro, ma chi pagava 3,40 euro, 3,60 euro nella parte esterna, Pineto, Atri, Chessogiortona, si vede una battuta, la tariffa a 1,20 euro. Questo è il commento del delegato regionale ai trasporti, Maurizio Di Nicola. La regione Abruzzo il 7 di agosto dà le linee programmatiche per le nuove relazioni di traffico e il CDA dovrà mettersi in campo su queste linee programmate. Parliamo di mobilità regionale. Questa mattina Pescara ha presentato il nuovo consiglio d'amministrazione della TUA, l'azienda per il trasporto pubblico. I componenti passano da 3 a 5 ed è stato annunciato un nuovo piano strategico più vicino alle esigenze degli utenti. Omar Reda. Tornano a essere 5 i componenti del consiglio di amministrazione di TUA. L'esperto di diritto comunitario Carmine Paolini e l'ingegnere nata a Creta Erini per Volarachi, proveniente dalla DAICO, entrano nell'organo di gestione della società unica di trasporto regionale, affiancando il presidente Tullio Tonelli, il vicepresidente Guido Dezio e Federica Evangelista. Alla conferenza stampa di presentazione del nuovo CDA a Pescara hanno partecipato anche l'assessore regionale al bilancio Silvio Paolucci e il consigliere delegato ai trasporti Maurizio Di Nicola. Tonelli ha ricordato le tre chiusure consecutive di bilancio inutile e ha indicato come obiettivo prioritario dell'azienda l'ulteriore miglioramento della qualità dei servizi tramite il ritorno agli investimenti. 206 i mezzi che saranno acquistati, 35 arriveranno entro fine anno, gli altri nell'arco del 2019. I progetti già avviati puntano ad aumentare le entrate sulla base di una diminuzione del traffico privato che nelle previsioni dovrebbe riportare Pescara ai livelli degli anni 80. L'indagine che abbiamo affidato a una società, la Cervet, ci dice che da 35.000 a 40.000 automobilisti dei 115.000 che ogni giorno vengono a Pescara lasceranno la macchina e prenderanno l'autobus. Quindi in termini ambientali, in termini di qualità, sicuramente il passo è notevole. Queste le prime dichiarazioni dei neoconsiglieri per Volaracchi e Paolini. Io spero veramente di poter portare dentro l'amministrazione pubblica tutta la mia competenza e esperienza professionale di una grande multinazionale privata. Abbiamo trovato un'azienda più che sana, la seconda realtà industriale a livello regionale, la settima a livello nazionale. L'augurio è di poter dare il nostro contributo.